Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero a tutti. Buonasera, io ovviamente mi scuso per non aver potuto partecipare in presenza. Purtroppo davvero le cose da fare sono moltissime, ma in ogni caso non volevo rinunciare ad esserci. Voglio ovviamente ringraziare tutti quanti per l'organizzazione di questo appuntamento. Voglio salutare e ringraziare le tante personalità che sono intervenute in questa manifestazione. Ovviamente il Presidente del Senato, Ignazio Larussa, tutti i ministri che sono intervenuti, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tutta la classe dirigente lombarda di Fratelli d'Italia. Ovviamente grazie a Daniela Santanchè, ai parlamentari, i coordinatori provinciali, i candidati. E ovviamente un saluto, non posso non farlo, e lo faccio molto volentieri anche ai coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, di una coalizione che tanto in Lombardia quanto al Governo della Nazione ha scommesso. Scommesso sulla propria comunità di intenti per dare ai cittadini risposte concrete in un tempo sicuramente non facile. Ma la nostra avventura a livello nazionale è appena cominciata, mentre quella lombarda arriva a scadenza. E i prossimi 12 e 13 febbraio i cittadini della Regione si esprimeranno sui risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. E per noi ovviamente il risponso della Lombardia è un risponso particolarmente importante. Per quello che la Regione storicamente rappresenta, non tanto la Regione più popolosa d'Italia, ma soprattutto quella che produce il sesto PIL più alto d'Europa, il sesto prodotto interno lordo più alto d'Europa. Cioè un territorio fondato sul lavoro, sull'intraprendenza, sull'innovazione, caratteristiche che ne fanno una delle principali avanguardie a livello europeo. E ovviamente per noi che crediamo nel merito, che crediamo nel valore che ha chi produce ricchezza, chi crea lavoro, che non deve essere ostacolato ma accompagnato e valorizzato, governare la Lombardia è una grande responsabilità, sì, ma è anche una straordinaria occasione di dimostrare come le cose possono andare meglio quando al governo non c'è chi frena le imprese, ma chi le sostiene. Oggi, dopo tanti anni, noi possiamo tornare ad avere quella stessa visione sia al governo della Regione quanto al governo della Nazione e moltiplicare i risultati che si possono raggiungere. Centrodestra si presenta ancora, ovviamente, unito, compatto, a sostegno del presidente uscente Attilio Fontana, che può vantare in questa campagna elettorale la forza data dal lavoro raggiunto in questi anni di buon governo. Io lo ringrazio, voglio ringraziare sinceramente Attilio Fontana perché non sono stati anni facili. Lo sappiamo, li abbiamo attraversati tutti. E con lui voglio ringraziare, ovviamente, chi in quest'ultima legislatura regionale ha rappresentato Fratelli d'Italia, i nostri consiglieri regionali, i nostri assessori che con il loro lavoro hanno contribuito al successo del centrodestra e al successo del partito di cui sono presidente. È stato, dicevamo, un periodo difficile nel quale ci si è dovuti confrontare con lo tsunami della crisi pandemica e probabilmente quello che avremo di fronte, il periodo che abbiamo di fronte, sarà ugualmente un periodo, diciamo così, abbastanza complesso. Però io penso, ed è questo il primo messaggio che vorrei trasferire, che questo scenario, lo scenario difficile che noi stiamo attraversando come Italia, come Europa, che è particolarmente carico di crisi, non debba in nessun modo impedirci di guardare al futuro con ottimismo. In Lombardia, come nel resto d'Italia, credo che la grande sfida di oggi sia passare dal gestire le crisi al utilizzare le crisi anche come un momento nel quale noi siamo chiamati a rimetterci in discussione, a ripensarci, ad avere finalmente una visione di lungo termine. Cioè non si governa questo tempo con piccole modifiche, non si governa questo tempo pensando in piccolo, non si governa questo tempo cercando banalmente di sopravvivere o di nascondersi o di fare quel poco che va fatto per far stare tutti tranquilli. Si governa questo tempo solo se si ha il coraggio di pensare in grande, di rimuovere gli ostacoli, di innovare profondamente, senza titubanze, senza paura. Questo è quello che serve. Serve il coraggio di fare scelte di lungo periodo. Serve il coraggio di rimuovere le troppe sovrastrutture che hanno bloccato l'Italia. Serve il coraggio di restituire a questa nazione una visione di lungo periodo. Il vantaggio che noi abbiamo rispetto a tanti altri prima di noi è l'orizzonte. Per la prima volta dopo molti anni non solo in questa nazione c'è un governo con un forte mandato popolare, questione non secondaria e con un'ampia maggioranza, che ha cinque anni di tempo per costruire la sua alternativa e poi chiederne conto agli italiani. L'orizzonte che questo ci consente di fare è programmare, è legare ogni iniziativa che facciamo ad un'altra, è sapere che faremo molte cose per realizzare una unica visione. I risultati di quel lavoro complessivo si possono vedere solamente alla fine. L'orizzonte, il tempo che noi abbiamo a disposizione è una cosa fondamentale, è forse anche il nostro più grande elemento di forza a livello nazionale come anche nella credibilità che abbiamo a livello internazionale. È un'occasione che non va persa e chi pensa che di fronte a un'occasione come questa si possa ragionare con gli schemi del passato, chi pensa che magari si possa mettere se stesso di fronte al destino di tutti, beh io penso che non si renda conto della realtà che vive, perché gli italiani ci hanno dato una responsabilità enorme e noi la dobbiamo utilizzare al massimo. Io non voglio utilizzare esempi più grandi di me, però confesso che in questi giorni a me viene spesso in mente la frase che fu attribuita a Giuseppe Garibaldi, chiaramente in un tempo molto diverso da questo, qui si fa l'Italia o si muore. Chiaramente nel nostro caso intendo politicamente, ma io la vedo esattamente così. E certo questo richiede il coraggio di fare delle scelte, soprattutto quando le risorse disponibili non sono neanche lontanamente paragonabili ai problemi che si devono affrontare. E certo alcune di quelle scelte nell'immediato possono non essere comprese o addirittura possono sembrare impopolari, però io penso che non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura se quelle scelte sono le più giuste che si potevano fare nelle condizioni attuali. E del resto, voi pensate che ci voglia più coraggio a prendere misure che possono non essere comprese, ma nel contesto sono quelle più giuste? O a prendere misure impopolari anche quando si sa che sono ingiuste, solo per salvare la propria faccia nel contingente? Perché quando tu decidi di non affrontare un problema o di affrontarlo nel modo sbagliato lo stai solamente ingigantendo e a pagare non sarai tu, a pagare saranno i cittadini, sarà l'Italia. L'abbiamo già conosciuta una politica così, l'abbiamo già conosciuta una politica che fingeva di affrontare i problemi davvero o che rimandava i problemi o che inseguiva semplicemente il consenso, non ponendosi il problema di quello che questo avrebbe significato per la nazione. I risultati noi li stiamo pagando oggi. Allora io so che nella nostra esperienza di governo ci saranno momenti entusiasmanti, come so che ci saranno i momenti difficili, però so anche, in cuor mio, sono certa che noi possiamo garantire che alla fine di questo periodo l'Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata e questa è l'unica cosa che mi interessa. Mi interessa sapere che in coscienza abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il benessere di questa nazione, per la sua ricchezza, per garantirle credibilità, per garantirle un futuro, per ridare entusiasmo e ottimismo ai suoi cittadini, per ricostruire il rapporto tra quei cittadini e le istituzioni, perché non è vero che lo Stato deve essere un avversario, non è vero che lo Stato deve essere un nemico. Lo Stato può essere il tuo più grande alleato se al governo di quello Stato c'è gente che sa che la ricchezza non la fa lo Stato, per esempio, ma la fanno le aziende, la fanno i cittadini, le fanno i lavoratori. Se lo Stato sa che deve non mettere i bastoni tra le ruote ai cittadini, ma aiutare e favorire quei cittadini, è stata questa la nostra visione. Certo serve molto lavoro, certo serve un sacco di pazienza delle volte, serve dedizione, però la nostra non è una corsa di 100 metri, la nostra è una maratona e quindi avremo quella dedizione, quella pazienza e garantiremo quel lavoro. E io penso che i risultati che noi abbiamo raggiunto in poco più di due mesi dimostrino quello che sto dicendo, perché guardatevi intorno, ricordate quello che si è detto prima che partisse questo governo. Dicevano che con noi l'Italia sarebbe finita nel baratro, dicevano che a livello internazionale saremmo stati isolati, dicevano che i mercati erano terrorizzati dall'arrivo del governo di centrodestra. Guardatevi intorno. Il 21 ottobre lo spread era a 236 punti, oggi nonostante il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea è a 182. La borsa italiana negli ultimi due mesi è andata più che bene con una capitalizzazione delle società che sale di 110 miliardi e potrei andare avanti, citare altri dati, che cos'è che fa la differenza, la serietà, la determinazione che questo governo sta dimostrando. Perché sì, non abbiamo padroni, non dobbiamo dire grazie a nessuno, se non al popolo italiano, per il ruolo che abbiamo raggiunto, e solamente al popolo italiano rispondiamo. E lo faremo facendo tutto quello che banalmente va fatto, senza compromessi che non siano necessari, senza tentennamenti che non ci possiamo permettere, senza lentezza, ma con velocità, affrontando seriamente problema dopo problema, con una visione di fondo, chiaramente. Perché la politica è niente senza visione, il governo di una nazione è niente senza visione. Qual è la visione che vogliamo realizzare? Qual è la nostra priorità? Noi vogliamo un'Italia che investa soprattutto sulla crescita economica. Perché è certo che vogliamo rispondere alle aspettative dei cittadini, che sono tante, ma per rispondere a tutte quelle aspettative occorre prima generare una ricchezza che si possa poi distribuire. Altrimenti ci si ritrova a distribuire la povertà. Per questo la nostra priorità, dopo aver messo in sicurezza le famiglie e le aziende di fronte al caro bollette, ma anche tenendo fede a un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale, abbiamo deciso di concentrare le poche risorse che avevamo nella legge di bilancio, per esempio, per abbassare le tasse sul lavoro, per abbassare le tasse sulle partite IVA, per sostenerle, per dire alle aziende che avrebbero prodotto di più che lo Stato avrebbe riconosciuto il valore di chi si rimbocca le maniche, lasciando a quelle aziende buona parte di ciò che avevano guadagnato in più. E stessa cosa abbiamo fatto con i lavoratori quando abbiamo dimezzato la tassa sui premi di produttività. Abbiamo utilizzato le nostre poche risorse per favorire le assunzioni al posto del reddito di cittadinanza, perché sì, la vera cittadinanza te la dà la dignità del lavoro. Ed evidentemente noi non ci sbagliavamo, signori, se i giornali parlano di un 11% di assunzioni in più nella città di Milano, solamente nella città di Milano, dopo l'annuncio del nostro provvedimento. Perché noi vogliamo ricostruire un'etica del lavoro. Vogliamo sostenere chi ha davvero bisogno di aiuto e vogliamo creare le condizioni per chi può lavorare di poter lavorare. Il nostro obiettivo non è togliere a chi più ha, anche se se lo è guadagnato, per dare a chi meno fa. Il nostro obiettivo è dare di più a chi fa di più, è riconoscere il valore del lavoro, della determinazione, della disponibilità, della capacità che ha chi si rimbocca le maniche di spendersi. E noi questa Italia stiamo costruendo. È certo che può dare fastidio a qualcuno. È certo che per qualcuno può essere un problema. È certo che potrebbe essere un problema, per esempio, per quella politica che diciamo su un certo assistenzialismo ha fatto la sua fortuna. Ma io credo che la politica abbia altre responsabilità. aiutare chi ha davvero bisogno, mettere in sicurezza chi ha necessità del sostegno dello Stato, ma mettere tutti gli altri nella condizione di dimostrare quello che valgono e nella condizione di vedere riconosciuto quel valore. Esattamente cose che in Italia, purtroppo, finora abbiamo avuto difficoltà a vedere. E poi ci siamo occupati delle famiglie, perché anche qui l'avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Un pacchetto da quasi un miliardo e mezzo di euro è stato destinato a chi mette al mondo dei figli. Una scelta che io considero soprattutto una scelta economica, perché noi abbiamo bisogno di tornare a produrre PIL demografico, cioè gli anni di futuro che abbiamo davanti. Abbiamo sentito parlare molte volte di famiglia, ma io non ricordo un'altra legge finanziaria nella quale, diciamo, la famiglia rappresentava uno dei pacchetti più consistenti di investimento, perché i figli sono sì un investimento e allora lì va il 5% sui prodotti per la prima infanzia, i congedi parentali che sono stati aumentati di un mese utilizzabili, di un mese retribuito fino all'80% utilizzabili fino ai 6 anni di vita del bambino, l'aumento del 50% degli assegni unici per il primo anno per tutti e per tre anni per le famiglie numerose. Sono provvedimenti che chiaramente incidono sulla nostra capacità di tornare a mettere al mondo dei figli, sapendo che lo Stato riconoscerà la maternità, la genitorialità, non come un problema, ma come una scelta coraggiosa che fai e che è utile alla nazione intera, perché è una scelta strategica, le scelte strategiche sono quelle che sono mancate e noi ci stiamo occupando e abbiamo cominciato a dare dei segnali sulle grandi scelte strategiche che vogliamo fare. Penso anche ad esempio alla grande questione della sicurezza energetica. Ci siamo svegliati un giorno e ci siamo resi conto che eravamo troppo dipendenti da altri, non solo in tema di energia e non solo noi italiani, perché questo è un tema europeo e allora se c'è qualcosa che questi shock ci hanno insegnato è che noi dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino, che dobbiamo tornare a essere padroni delle catene di approvvigionamento fondamentali, delle catene del valore, non possiamo dipendere dagli altri per le questioni, per le grandi questioni strategiche. La sicurezza energetica è una di queste e allora uno dei primissimi provvedimenti di questo governo è stato sbloccare alcune concessioni per l'esplorazione e l'estrazione di gas nei nostri mari, perché sì, noi abbiamo gas italiano e se il gas manca si deve estrarre. Quindi noi abbiamo estratto e stiamo estraendo diciamo, abbiamo ampliato le concessioni per estrarre quel gas ma in cambio abbiamo chiesto alle aziende che beneficiano di questa concessione di garantire da subito l'equivalente del 75% del gas che prevedono di estrarre a prezzi calmierati per le aziende italiane e quindi un provvedimento che aveva due obiettivi mettere in sicurezza il nostro tessuto produttivo e garantire maggiore autonomia energetica da parte dell'Italia ci vuole coraggio per fare queste scelte? Certo, ma il coraggio non ci difetta allora stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini un rapporto che sia basato sulla paridignità sulla fiducia dello Stato nei confronti di chi fa impresa sul principio che diciamo è stato un po' il principio che ci ha accompagnato durante la campagna elettorale e oltre non disturbare chi vuole fare e lo abbiamo declinato ad esempio nel nuovo codice degli appalti diamo fiducia alle aziende con meccanismi che consentono loro di lavorare con chiarezza e certezza nei rapporti con la pubblica amministrazione avere un codice degli appalti che funziona significa avere uno strumento che garantisce opere fatte fatte bene forniture performanti servizi efficienti e tempi e costi certi consentendo alle aziende che lavorano con la pubblica amministrazione di farlo con la certezza del contesto nel quale operano di farlo potendo garantire una pianificazione e una programmazione anche di questo si parlava da anni è stato un obiettivo raggiunto in poche settimane grazie anche diciamo al lavoro della Corte dei Conti a un avvio che era stato fatto precedentemente ma noi lo abbiamo portato in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento abbiamo introdotto nell'azione della pubblica amministrazione il principio del risultato cioè abbiamo previsto che le strutture ministeriali e amministrative operino avendo ben presente che a loro agire devono rispondere obiettivi concreti e vi dico di più ministero per ministero ma anche qui a Palazzo Chigi dove sono io e dove lavoro io beh stiamo andando a guardare i comitati le commissioni ci sono una infinità di diciamo così strutture e vorrei capire e capiremo uno per uno quali di questi siano realmente necessari perché altrimenti magari ci sono risorse che si possono liberare per essere spese in misure più efficaci di quelle di avere comitati e commissioni stiamo lavorando per consegnare all'Italia un quadro che complessivamente preveda meno burocrazia meno sprechi meno norme norme più chiare procedure snelle procedure semplificate che consenta di correre di fare presto perché noi non abbiamo tempo da perdere il governo sta lavorando per sbloccare opere su tutto il territorio nazionale inclusa la Lombardia opere che ovviamente servono a sostenere la produttività e quindi lavoriamo per potenziare le connessioni con nodi strategici penso al porto di Genova con la realizzazione del terzo valico rafforzando la rete stradale autostradale come dimostra per esempio lo sblocco della Milano Lodi stiamo lavorando per rivedere il piano aeroportuale che penalizzava il cargo italiano e che diciamo induceva la partenza dall'estero delle nostre produzioni nazionali per rendere più forte e diretta la nostra capacità di penetrazione nei mercati stranieri con aeroporti fondamentali come sono Malpensa Montichiari Orio Alserio perché la Lombardia è una regione che ha bisogno di avere al suo fianco lo Stato e il governo lavora in questa direzione lavora anche su interventi che sono magari meno visibili e declatanti che però sono centrali perché accrescono la produttività e il benessere in intere comunità penso ad esempio al riparto del fondo delle opere indifferibili le risorse stanziate con la legge di bilancio per eliminare i tanti colli di bottiglia che affliggono la Lombardia e Milano in particolare verso la Svizzera tutto questo perché crediamo in una Lombardia che cresca sempre di più nella sua produttività se c'è volontà di fare tu devi aiutare quella volontà vogliamo sostenere le aziende nel potenzialmente del proprio portafoglio clienti nella loro capacità di implementare l'export nella loro forza di creare ricchezza e benessere per chi vive non solo in Lombardia perché la ricchezza che viene prodotta in Lombardia è ovviamente ricchezza per l'Italia intera una regione che sia sempre più forte e capace di rispondere alle istanze del territorio e questo passa anche da un'attuazione virtuosa dell'autonomia differenziata nel quadro più ampio di riforme che questo governo intende portare avanti per ammodernare lo Stato per ammodernare le istituzioni e ovviamente qui non può mancare una battaglia storica di Fratelli d'Italia e del centrodestra che è la riforma in senso presidenziale dello Stato rimane una delle nostre grandi dei nostri grandi impegni una delle nostre grandi riforme perché riformare le istituzioni in questa nazione consegnare all'Italia istituzioni più veloci più capaci più attenti ai bisogni dei cittadini più stabili è un impegno che ci siamo presi con i cittadini e come tutti gli impegni che ci siamo presi con i cittadini intendiamo mantenerlo e certo per raggiungere questo obiettivo noi parleremo con tutti perché vogliamo fare riforme il più possibile condivise però sia chiaro gli italiani ci hanno dato un mandato e noi quel mandato intendiamo portarlo a termine dialogando ma senza diciamo lasciare che atteggiamenti dilatori di altri ci impediscano di andare dove gli italiani ci hanno chiesto di arrivare noi vogliamo portare a casa i risultati tutto il resto non ci interessa e poi la sicurezza l'immigrazione con i primi provvedimenti abbiamo voluto dimostrare che è finita l'Italia debole con i forti e forte con i deboli dal decreto contro i reivi illegali a quello su ONG il messaggio è sempre lo stesso è arrivato il tempo del rispetto delle leggi è arrivato il tempo della legalità è arrivato il tempo in cui l'Italia dimostra di essere una nazione seria che fa rispettare le sue regole in questi giorni il ministro degli interni ha avviato una campagna di controlli nelle stazioni delle grandi città metropolitane perché non è possibile che un pendolare debba avere paura a prendere il treno o che un turista che arriva in Italia abbia come prima immagine di questa nazione quella del degrado e quindi anche lì stiamo intervenendo e lunedì lunedì 16 sarà proprio la volta della stazione di Milano e ci sarebbe molto molto altro da dire su ciò che abbiamo fatto in poco più di due mesi non vi voglio rovinare la giornata voglio dire a voi e agli italiani una cosa sola non c'è giorno non c'è ora non c'è minuto che non mettiamo tutti noi stessi in questa avventura in cui non prendiamo a cuore i problemi degli italiani sapendo che sono nostri problemi questo è l'impegno più importante che ci vogliamo prendere perché faremo quello che va fatto lo faremo con la serietà con la dedizione con il coraggio con la determinazione con cui va fatto e faremo quello che consideriamo giusto in coscienza perché alla fine a me interessa soprattutto sapere quali saranno i dati macroeconomici di questa nazione fra cinque anni mi interesserà sapere quali saranno i dati sulla natalità mi interesserà sapere quali saranno i dati sul reddito medio sul salario medio mi interesserà sapere quali saranno i dati sulla nostra produttività sul nostro export sulla possibilità dei giovani di avere un posto di lavoro adeguato ai loro studi adeguato alle loro aspettative questo è quello che guardo questo è quello che guarderò ma per poter guardare compiutamente quei risultati servono cinque anni di lavoro e io spero e sono certa che avremo quei cinque anni nonostante i tentativi diciamo di buona parte dell'opposizione e non solamente dell'opposizione di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni tra le ruote è normale l'opposizione fa il suo lavoro ed è giusto che sia così l'importante è che anche noi si faccia il nostro e noi siamo il governo della nazione e il compito del governo è decidere dopo che si è assunto degli impegni portare a casa quegli impegni questo è il modo con il quale noi diciamo affrontiamo questa avventura e ovviamente so che la stessa cosa vale per Attilio Fontana per il presidente Attilio Fontana perché lo ha già dimostrato nei cinque anni trascorsi e per questo io gli faccio un grande in bocca al lupo a lui ovviamente a tutti i candidati che corrono nelle liste a tutti i candidati di Fratelli d'Italia in particolar modo e voglio dire non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una giunta di centrodestra alla guida della regione Lombardia una giunta nella quale sono certa che Fratelli d'Italia avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale grazie e buona serata a presto a presto a presto